Il primo, l'onore con le Scalfarotto, prego. Grazie mille alla Presidente per la parola e grazie anche al sottosegretario Di Stefano. Io devo dire che non nascondo un certo compiaciuto stupore, diciamo, a seguito della sua relazione, perché mi è sembrata una relazione che si svolge in assoluta continuità con le politiche che sono state svolte dai governi precedenti e con la tradizione italiana di grande paese esportatore. Quindi da qui viene il compiacimento, non posso negare francamente lo stupore legato al fatto che si tratta di una narrazione che rappresenta una discontinuità sostanziale, drammatica direi, rispetto alle cose che ci siamo detti nella scorsa legislatura. Però, insomma, è sempre meglio cambiare opinione che non cambiarla. Ho apprezzato il fatto che il sottosegretario abbia sottolineato appunto che l'Italia è il sesto paese al mondo per avanzo della bilancia commerciale, che è il nono paese esportatore al mondo, che è il quarto per produzione di posti di lavoro legato all'export, che come giustamente dice Sace, se negli anni tra il 2010 e il 2017 non ci fossero state le esportazioni, il nostro prodotto interno lordo sarebbe diminuito di 6,4 punti percentuali. Possiamo dire che in quegli anni, mentre importazioni, investimenti, spesa delle famiglie, spesa pubblica diminuivano, l'unica voce che ha tenuto in piedi il nostro prodotto interno lordo sono state le esportazioni. Questo lo dico per dire che cosa, e apprezzo quindi che il governo si stia muovendo in questa direzione, perché possiamo dire che se noi andassimo a boicottare o a limitare la potenzialità delle nostre esportazioni, la prosperità delle nostre famiglie, del nostro paese, delle nostre imprese ne sarebbe nettamente colpita, che era poi la politica che è stata portata avanti dalle opposizioni nella scorsa legislatura, che hanno fatto di tutto per quanto era possibile, per dare messaggi anche legati a una certa pericolosità del commercio internazionale, della globalizzazione. Ora è evidente che la globalizzazione va gestita e che bisogna fare in modo che tutti gli accordi che vengono stipulati e le politiche che vengono messe in piedi abbiano delle ricadute che siano gestite dalla politica per evitare che vi siano sperequazioni, differenze tra... quindi c'è parte della società che ne sono colpite, però è vero, vero è che noi, Italia, senza un sistema di esportazioni forte, non abbiamo possibilità di crescere né abbiamo possibilità di sopravvivere. Ricordiamo che non siamo soltanto un grande paese esportatore, ma essendo un paese sostanzialmente privo di materie prime, siamo anche un grande paese importatore. Noi siamo un paese che trasforma, quindi nel momento in cui si creano delle barriere, tarifare o non tarifare il commercio internazionale, noi non soltanto non siamo in grado di vendere i nostri prodotti, ma neanche di acquistare le materie prime che ci servono per creare appunto il famoso Made in Italy. Allora, detto questo, che cosa succede? Quello che non si capisce però è perché non siano presi atti conseguenti. Faccio un esempio. Io apprezzo moltissimo quando il sottosegretario Di Stefano dice che bisogna rafforzare urgentemente la leadership europea e fare in modo che l'Unione Europea agisca in modo unitario per rappresentare 500 milioni di consumatori e 500 milioni, quindi uno tra i mercati più grandi del mondo. Però mi chiedo se le nostre politiche nazionali vadano nella direzione di rafforzare l'Unione Europea perché i messaggi che il Governo dà nella sua politica generale ma anche nella sua politica commerciale sono tutto il contrario di un rafforzamento dell'Unione Europea. Mi perdoni sottosegretario, nel momento in cui lei viene qui giustamente a lodare l'iniziativa italiana dello scorso Governo che ha portato allo strumento dello screening degli investimenti esteri per proteggere le nostre imprese da investimenti predatori e poi mi dice che l'astenzione italiana, unico Paese dei 27, sottolineiamolo, c'è stato un solo voto che non è stato favorevole, è stato del Governo italiano, in questo caso in totale discontinuità con il lavoro precedente, non può limitare il peso politico di quella posizione perché evidentemente si andava a rompere l'unità europea e si andava a romperla soprattutto su un fronte che era appunto quello cinese, al quale verrò tra poco, perché è chiaro che quello screening era sgradito al Governo cinese e quella decisione è stata presa soltanto pochi giorni prima della famosa firma del memorandum e della visita del Presidente Xi Jinping. Così come lo stesso memorandum preso in totale solitudine senza accordi con i nostri partner europei ha rappresentato evidentemente una rottura del fronte europeo e un indebolimento nei confronti del partner cinese di quello che è il fronte europeo, questo è come dire ovvio. Peraltro aggiungo che su questa vicenda del memorandum bisognerà fare presto chiarezza perché vede il problema e questo lo voglio sottolineare, il Presidente Conte era al secondo Belt and Road Forum, il Presidente Gentiloni era al primo Belt and Road Forum e in entrambi i casi l'Italia è rappresentata a livello altissimo per cui nessuno discute il fatto che bisogna avere rapporti con la Cina e lavorare con quel grandissimo mercato, il più grande mercato asiatico, è una delle economie che crescono di più, figuriamoci, un Paese come il nostro se non può lavorarci. Io segnalo che il precedente sottosegretario è lo sviluppo economico, cioè io durante gli anni del governo Gentiloni sono stato in Cina dieci volte e apprezzo il lavoro che il sottosegretario Geraci fa sulla Cina. Il problema che mi pongo è se dal punto di vista politico ci sia un bilanciamento tra le cose che facciamo e quello che otteniamo perché nel momento in cui ci siamo sostanzialmente genuflessi alla Cina in diretta televisiva mondiale, essendo l'unico grande Paese che firma un memorandum di questo tipo. Ci si chiede quali siano i ritorni, cioè davanti a un prezzo politico così forte per il quale noi, diciamo così, ci leghiamo mani e piedi al gigante cinese irritando peraltro gli alleati storici, non soltanto quelli europei ma penso anche agli Stati Uniti. E poi scopriamo che dopo pochi giorni il Presidente Macron vende 30 Airbus per 30 miliardi e noi siamo riusciti, finalmente, dico che abbiamo fatto bene a vendere il seme bovino congelato e i pezzi di suino che non possono essere direttamente commestibili, ci si chiede se ne valesse la pena. Se le dico, lei ci ha detto che nel 2018 le nostre esportazioni con la Cina sono scese del 2,4%, nel 2017 erano salite di oltre il 20%, ripeto, nel 2017 esportazioni italiane in Cina sono più 20%, nel 2018 meno 2,4%. E qual è il premio che noi diamo ai cinesi? Quello di firmare un memorandum of understanding che non era necessario e che non produce direttamente nessun effetto sulle nostre esportazioni. Allora viene il dubbio che la gestione del rapporto con i cinesi sia una gestione sulla quale non sappiamo lavorare, anzi io vorrei chiedere alla Presidente urgentemente di prevedere anche un incontro con il sottosegretario Geraci, perché ovviamente questa è la Commissione Esteri, però sappiamo benissimo che le competenze sul commercio internazionale stanno prevalentemente al Mise e al Mise sono stanziati anche i fondi per quello che riguarda la promozione commerciale, oltre al fatto che il Lice evidentemente riporta direttamente al sottosegretario Geraci e quindi è necessario che parliamo anche con lui. Devo dire, molto piacere nel sentire dire che l'accordo con la Corea lo riconoscete, è aumentato di oltre il 50% le nostre esportazioni, che l'accordo con il Giappone è un accordo vantaggioso, addirittura sento dire che avete dato, lo sapevo ma mi fa piacere sentire dire, avete dato via libera al mandato negoziale per un accordo di libero scambio diverso dal TTIP ma con gli Stati Uniti. Ora io non posso non ricordare la retorica patriottarda e protezionistica per la quale il TTIP era più o meno un girone dell'inferno dantesco se non altro. Ora il fatto di aver osservato banalmente che gli Stati Uniti sono il nostro più grande mercato extraeuropeo e che quindi con gli Stati Uniti si riuscissimo ad abbassare i dazi e a migliorare anche gli standard normativi per cui per esempio una piccola e media impresa per esportare negli Stati Uniti non ha bisogno di due linee di produzione parallele che non si può permettere ma gli standard normativi vengono omogeneizzati e quindi si può con lo stesso prodotto vendere sia in Europa che negli Stati Uniti, questo sarebbe bene. Così come quando ci parla del CETA, adesso visto le cose che ha detto il Sottosegretario e visto che voi vi sedete al tavolo del CETA portate di dossier importanti per noi, questo è un riconoscimento del fatto che il CETA serve, altrimenti non vi siedereste a quel tavolo e allora se il CETA serve, ci ha detto anche lei che le nostre esportazioni in Canada sono aumentate. Benedetti Dio, ci vuole spiegare un motivo logico per il quale questo accordo con il CETA non si vuole ratificare? Oppure abbiate il coraggio di non ratificare il CETA e vedete che cosa vi dirà il Consorzio del Parmigiano Reggiano, il Consorzio del Gorgonzola, che cosa vi diranno tutti i nostri esportatori nel momento in cui fate saltare un accordo che elimina tutti i dazi e che aumenta le nostre esportazioni. Allora, quello che voglio dire è che appunto abbiamo sentito fare della retorica molto dannosa per gli interessi nazionali nei cinque anni precedenti. Ed è bene che il messaggio che oggi ha dato il sottosegretario di Stefano, cioè che questo governo ripudia le sue tentazioni protezionistiche, riconosce la vocazione all'esportazione dell'Italia, riconosce l'interesse nazionale. Non dimentichiamo che il titolo di questa indagine conoscitiva è dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale. Ora, il Ministro Tria ieri ha dichiarato chiaramente che, e come ha detto anche del resto il sottosegretario di Stefano, ma lo stanno dicendo tutti i componenti del governo, che se ci sarà una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, l'Italia ci andrà di mezzo. Si parla di una flessione possibile del 2% delle nostre esportazioni pari a un importo di 9 miliardi di euro. Allora, mettiamo via, per favore, ripeto, questa retorica del giardinetto, del not in my backyard, dei piccoli popoli, delle piccole patrie, del fatto che, appunto, come dice lei, purtroppo l'Europa è divisa tra quei paesi che sono più orientati all'alleanza atlantica e quei paesi che sono orientati più all'est europeo. Ma scusi, sottosegretario, l'Italia dove sta? Purtroppo tra i secondi. Ma questa è la novità. Ma ce la state portando voi? Adesso, mi dica il Vice Primo Ministro Salvini, appena tornato dall'Ungheria, le cose che ha dichiarato le abbiamo lette tutti, no? Che l'Ungheria ha favorito la pace nel mondo e che le cose come stanno non vanno. Non è che siamo noi ad aver parlato con i paesi di Visegrad e a fare il filo a Putin. Questa è una cosa che fa questo governo, per cui se lei oggi ci sta annunciando che finalmente l'Italia torna a una posizione filoeuropeistica e ritorna nel novero delle sue storiche alleanze, questo anche al fine di sostenere la nostra economia, per me evidentemente è musica per le orecchie. Quindi, ripeto, l'invito è, giustamente, tutti gli accordi di libero scambio vanno monitorati. Va, ascolto anche la celebrazione che lei ha fatto del nuovo sistema antidumping dell'Europa che ha consentito di non riconoscere lo status di economia di mercato alla Cina. È stata una battaglia che l'Italia nella scorsa legislatura ha fatto in completa solitudine. Voglio segnalare che nella metà di aprile il WTO, in una decisione preliminare, ha già dato ragione all'Unione Europea rispetto alla Cina sul mancato riconoscimento dell'economia di mercato. Allora, benissimo che tutto questo è successo. Secondo me, varrebbe la pena di spiegare al Paese, in modo più chiaro, in modo più definito, che appunto la retorica protezionistica per cui la globalizzazione è il demonio, per cui il CETA è una disgrazia, per cui il TTIP è l'invasione delle multinazionali che ammazzano il povero consumatore, andrebbe corretta e sarebbe, diciamo, dal punto di vista dell'onestà intellettuale più sincero se si dicesse, vi abbiamo detto, una montagna di frottole e adesso che stiamo lavorando al Governo, così come ve le avevamo dette sull'ILVA, così come ve le avevamo anche dette sulla TAP e così come ve le avevamo dette sulla TAV e su una serie di altri dossier, la Xilella, l'ultimo che abbiamo portato in Aula, abbiamo sentito infatti dalla voce del Movimento 5 Stelle quali erano le tesi precedenti, c'è stata una vostra collega che ha parlato molto chiaramente e che ha spiegato che evidentemente c'è stata un'inversione a U, questa inversione a U che è sicuramente la benvenuta al di là della retorica, che vi dovrebbe portare ad approvare e ratificare il CETA quanto prima, andrebbe chiarita agli italiani. Spero di averlo fatto almeno in parte io con questo mio intervento. Grazie, adesso è chiesto di intervenire l'onorevole Suriano.